Se la vieni via lo sapete Vabbè Vabbè Lori volete una bottiglietta da? Vabbè prende la bottiglietta Vabbè 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 Alleluia Resci Resci Sicurissi Alleluia Hola Frodo Alleluia Possiamo cominciare ad andare? Andiamo 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 pure Pronto Pronto Gu resto Gesù Cristo Amman Vabbè Vabbè A Grazie a tutti. 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 Tu sei benedetto. benedetto. Grazie a tutti. benedetto. Grazie a tutti. tu sei benedetto. Tu sei benedetto. Tu sei benedetto. Gesù mio. Gesù mio. benedetto. 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 Ave. 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 In mano un rosario portava Maria, che ha ditta i fedeli dal cielo la via. Ave. 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 Dal cielo son discesa a chiedere preghiera per i gran peccatori con fede sincera. Ave. 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 Maria. Siamo a Porto Mistero della Gioia. Contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Gesù che viene otto giorni presentato al Tempio. Perché sapete che c'era allora Gesù l'Ebreo e veniva circonciso. Ecco, prima di entrare nel Tempio, fuori dal Tempio, c'era Salomo Simeone. Ecco, questo uomo di Dio, sapete che il suo corpo riposa nella chiesa di Zara, di San Simeone, ed è ancora intatto. Allora, adesso faremo questa decina in polacco e vi posso dire, io sono stato a Medjugorje l'altra settimana, per il 2, come sempre, e un sacerdote, polacco, sapete cosa mi ha detto? Ha detto che è Dio che abbiamo mandato Salvini, io sono rimasto così. E noi siamo sempre lì, sì, perché loro hanno tutte le frontiere chiuse, tutte, non si entra nessuno. Ecco, noi siamo lì a criticarlo, invece è Dio che davvero provvede ai nostri bisogni. Pagliare le Divin Aaron Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. e tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.